Salutiamo il Presidente dei Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, buonasera, benvenuta. Buonasera Massimo, come va? Come andiamo? Siamo sempre qua in combattimento. Parliamo tra poco di questa idea di Salvini e di Berlusconi, tra poco, però prima anche per sorridere un po'. Siamo andati con Rosanna Sferrazza in quella che era la sua zona di vita, la Garbatella. Devo farle una premessa, la Sferrazza è un po' di sinistra, ma non ha trovato, ha trovato un sacco di... La Garbatella è molto rossa, pare, uno però l'abbiamo trovato, guardiamo che cosa succede con Rosanna Sferrazza. Giorgia Meloni incontra Draghi, le telecamere la circondano, ma lei non teme nessuno perché è... Giorgia! Sono una donna! Sono una madre! Ma Giorgia è stata anche una bambina, cresciuta cantando un'altra canzone che le aveva insegnato nonno Gianni. Parlami d'amore, ma riuscirò a trovare nel quartiere della sua infanzia un fan, talmente fan, disposto a ballare. Genitore 1, genitore 2! Genitore 1, genitore 2! Stiamo cercando fan di Giorgia Meloni. Qui c'è qualcuno? Qui non credo. Buonasera signora, stiamo cercando Giorgia, la conosceva? Giorgia? La Meloni, che veniva qua in zona Garbatella. Sì, la conoscevo, sì. Ma lei non è fan di Giorgia? No, assolutamente, sono di un'altra sponda, sono per la sinistra. Voi siete sostenitrice di Giorgia, per caso? No. Sono tutti di sinistra qua a Garbatella? A Garbatella tutti di sinistra, guarda. Ha sbagliato quartiere? No. Sto a cercare i fan suoi, ma ci stanno? No, 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 ha sbagliato poi quartiere, tutti romanisti e di sinistra. Salve, sto cercando fan... Oh, ma è Dudù, il cane di Silvio, assomiglia? Non ho capito. Il Dudù, il cane di Silvio Berlusconi, non è? Ci assomiglia un po'. No, no. Non è lui. No, stiamo cercando fan... Grazie. No. Non è? No. Non so, un po' col contrario. E dopo tanto girovagare, finalmente... Lei è fan? Sono fan. E quindi lo sa fare? Io voterei, voterò Giorgia Meloni. Se non sa far balletto, non può votare. Genitore uno, genitore due, genitore uno, genitore due. Bravissimo. Un, uno, due, uno, uno, uno. Grande Giorgia! Uno l'ho trovato. Venisse una volta la Garbatella. È nata qui, un ritorno qui una volta. Può venire. Eh sì, eh? Giorgia. Ma mia madre ancora vive alla Garbatella. Ma anche lei fino a pochi anni fa, credo. Sì, sì, io fino a pochi anni fa, mia madre ancora vive nella nostra casa della Garbatella. Ci siamo stati la settimana scorsa. Non ti preoccupare, vengo presto. Ma dico, lei va sempre in giro con la macchinetta sua? Sì, sì. No, perché non ho avuto tempo di vedere come è arrivata. Solitamente arriva... Anche perché sono arrivata al cardiopalmo all'ultimo minuto. È come al solito, non cambia mai. Senta, ho scoperto, leggendo il suo libro, anche per parlare d'altro, poi parleremo di politica, che suo nonno Gianni faceva una specie di... L'ha insegnato a cantare Parlami d'amore Mariu, ma faceva una specie di karaoke con sua sorella. Sì, e chi vinceva era la regina, e chi perdeva era la monnezza. E chi vinceva? Cioè, in realtà vincevamo un po' per una. In realtà vinceva sempre lui, soprattutto. Il nonno. Lui era il re, no, in assoluto. Poi faceva un po' per una, capito? Però sulla cosa di Parlami d'amore Mariu, lui metteva in palio 5.000 lire per chi fosse riuscito a cantarla perfettamente. Noi abbiamo provato a cantare Parlami d'amore Mariu, credo, per 12 anni nella nostra vita. non ha mai tirato fuori le 5.000 lire. Lui trovava sempre un modo per non darti sti soldi. E ho scoperto poi che con mia madre da ragazza, da bambina, faceva esattamente la stessa cosa. Mio nonno era un personaggio fantastico, tra l'altro raccontava tutte queste storie. Era un po', sembrava un po' Emilio Salgari, no? E sa che Emilio Salgari scrisse tutti questi romanzi su Sandro, che in realtà non era mai uscito da casa sua, quindi tutta fantasia. Mio nonno era uguale, non era mai uscito dall'Italia e ti raccontava degli uomini lampadina in Africa, di quando aveva... Quindi per due bambine è stupendo. Era stupendo, era un personaggio fantastico. Posso chiedere, era di destra o di sinistra? In realtà loro votavano democrazia cristiana. Anche se mia nonna questo, negli ultimi anni della sua vita, ha tentato di negarlo. Ha detto che non era vero, che lei votava a destra. Non è vero. Mio nonno, io mi fido del giudizio di mia madre da questo punto di vista, loro finché noi non abbiamo cominciato a fare politica, poi mio nonno è morto presto, perché insomma eravamo ancora ragazze, invece poi mia nonna, poverina, mancata... Al centro, stavano al centro. Stavano al centro, sì. Erano più di destra che di sinistra, cioè centrodestra. Quindi del rosario era parte della loro vita. L'effetto del rosario, perché ho saputo che Salvini vi ha portato dei rosari. C'è stata la riunione martedì un po' tesa per la decisione di chi far sindaco nelle varie città importanti, però non è andata bene. Ce l'ha detto Sgarbi, guardi al volo questo passaggio. Martedì dovrebbe essere il giorno di vedere Michetti da parte di tutti e valutarlo rispetto all'amatore. Allora, questo rosario ho saputo che non è stato benedetto perché Salvini doveva prendere l'aereo in fretta. Eh sì, io gli ho chiesto, ma l'hai fatto benedire? Eh no, dovevo prendere l'aereo. Però è stato gentile. Però non ha funzionato. L'ha regalato a tutti. Ah no, per la riunione? Vabbè, insomma ci affidiamo a cose molto più umane per risolvere questi problemi. Però queste cose umane... No, adesso sorrido, però io mi ricordo che qualche anno fa anche lei ebbe qualche ostacolo, diciamo, alla famosa candidatura su Roma che portò poi alla vittoria della Raggi. Cioè, mi sembra che Tajani e Berlusconi alla fine appoggiarono Marchini. Esatto. Ci fò una spaccatura. Ecco, non è che ritrovo nel fatto che dicano ai vostri candidati sempre un no un tentativo di bloccare un po' la sua scesa che è forte in questo periodo. Ma guardi, io questo... Non è che fanno lo stesso errore dell'altra volta? Questa è la domanda. Io questo non lo voglio credere, proprio perché penso che ciascuno debba imparare dai propri errori. Cinque anni fa, per privilegiare l'interesse di partito, il risultato è stato che noi ci siamo ritrovati, noi romani e noi italiani. Romani, un sindaco di Roma che ha devastato questa città, grazie al lavoro della quale oggi la capitale d'Italia viene derisa sui quotidiani di tutto il mondo. E guardi che non è un problema solo dei romani, perché la capitale di una grande nazione è, come posso dire, l'immagine e la foto sul documento di identità di quella nazione. E quindi lo stanno pagando e le hanno pagate quelle scelte i romani, le hanno pagate gli italiani. È la ragione per la quale oggi a me non interessa minimamente, non solo per Roma e vale anche per Milano, per le altre grandi città, non mi interessa minimamente mettere la bandierina del partito. Io so che queste elezioni amministrative sono elezioni complesse. Però Roma è sempre aspettato, dovrebbe aspettare a voi in una divisione, no? Sicuramente oggi, fratelli d'Italia, a Roma è forse il partito di maggioranza all'interno del centrodestra. E quindi? Ma non mi interessa arrivare e dire lo voglio il candidato mio perché così dico che conto più di voi. Io voglio vincere. È la ragione per la quale mi sono dedicata, credo più di tutti, a cercare un candidato che potesse anche, diciamo, allargare rispetto al nostro... Ma cosa non va bene di questo candidato che lei ha proposto, scusi? Ah, non lo chiede a me. Beh, ci dica qualcosa di più di quello che è successo in questa riunione, che è stata animata. Quello che io sento dire è che... però voglio dire anche l'amatone è sicuramente un candidato molto interessante. La dottoressa Amatone. La dottoressa Amatone. Io, diciamo, ho fatto la proposta, ho portato anche la proposta di questo professor Michetti. Perché? Perché parliamo di una persona che sul piano della conoscenza dell'amministrazione non ha pari. E una macchina complessa come quella dell'amministrazione capitolina ha bisogno di qualcuno che sappia esattamente dove mettere le mani. Perché altrimenti rischi di fare, come abbiamo visto fare in questi ultimi cinque anni, che non riesci neanche a essere sicuro che sulla targa scrivano corretto il nome di un ex presidente della Repubblica. E guardi, io me la prendo con la raggi, perché non credo che sia compito del sindaco stare lì a leggere, avete scritto bene a Zeglio, no? Però evidentemente c'è un'amministrazione che va un po' ricostruita. Questo secondo me, quello che è forse principale avvocato amministrativista in questo momento, che i sindaci chiamano per risolvere i loro problemi, può fare la differenza. Vincere questa carta che gli sta giocando? Questo lo vediamo, perché io non voglio arrivare e dire il candidato è questo, io voglio che lo decidiamo insieme. Ho chiesto di incontrarlo, perché tra l'altro nel caso specifico questa persona, di solito quando un tecnico è molto bravo, è difficile che sappia anche parlare alla gente. Invece questa persona qui è molto empatica. Io ho scoperto che i suoi social sono molto più seguiti di quelli di tantissimi politici. Ho chiesto incontriamoli, però il punto è, non va bene, ok, fatemi un'altra proposta, facciamo altre... Io voglio chiudere, noi dobbiamo fare la campagna elettorale. Le posso far vedere però delle immagini che sembrano fatte ieri. In Rece sono del 10 di febbraio, vi le mando, sono nella villa dove risiede oggi Berlusconi, villa grande che è stata anche la villa di Zeffirelli. Era il 10 di febbraio, però come dicevo, c'erano le consultazioni per Draghi e quant'altro. Hanno fatto le prove per questa federazione, secondo lei. Ecco, che cosa vede in questa federazione? Perché lei non è convinta? Ma non è che io non sono convinta. Guardi, secondo me è anche un'operazione intelligente. Nel senso che io penso che, se detto molto sui giornali, fanno la federazione Salvini e Berlusconi perché vogliono tagliare fuori la Meloni. Non è così. Quella non è un'operazione fatta contro di me. Quella è un'operazione fatta, credo io, legittimamente contro la sinistra. Perché oggi Lega e Forza Italia governano con il PD e con il Movimento 5 Stelle e il PD e il Movimento 5 Stelle pretendono di avere i voti di un pezzo del centrodestra per fare quello che facevano prima con Conte e cioè quello che loro pensano sia giusto fare. Io ho sempre detto che secondo me il centrodestra che ha scelto di stare al governo si deve difendere. Quindi credo che questa iniziativa nasca per cercare di mettere maggiormente in relazione i partiti che stanno al governo e cercare di contare un pochino di più. Poi non mi sono chiari i contorni perché alcuni parlano di semplice coordinamento tra i gruppi, altri parlano di un partito unico, alcuni dei gruppi unici. Non l'ho capito bene. In ogni caso la guardo con assoluto rispetto. Ovviamente non riguarda Fratelli d'Italia. La guarda o siccome lei ha un partito che sta molto in crescita stando anche all'opposizione si è avvantaggiati, la vede rischiosa come più che federazione potrebbe essere una fusione di Forza Italia insieme alla Lega e voi... Ma questo è una scelta che devono fare loro. Cioè Salvini secondo lei vuole andare a portare via voti al centro e vi lascia alla destra anche magari in Europa? Una chiave di lettura? Francamente non lo so, non mi è chiaro, io non ho parlato con loro di questa cosa, ripeto, qualsiasi cosa loro decidano di fare è una scelta loro a guardo con rispetto. Io ho sempre pensato che le differenze tra i partiti del centro e destra fossero anche un valore aggiunto per noi e diciamo di solito la politica e la matematica non si sovrappongono. Lo diceva anche Bossi, 2 più 2 non dà mai 4. Non necessariamente, nel senso che poi alla fine quello che fa la differenza in politica è la tua identità e quanto sono chiare le tue posizioni. Per cui sono sempre operazioni che hanno dei vantaggi e dei rischi. Però io la guardo con assoluto rispetto. Ma parteciperà a una riunione? Io non posso partecipare perché se questo, come io credo, è un tentativo di rafforzarsi al governo rispetto alla sinistra, io sto all'opposizione e faccio un altro lavoro. Avevo proposto al tempo un intergruppo del centro-destra per cercare anche io, col ruolo di opposizione con Fratelli d'Italia, di rafforzare i partiti che stanno al governo perché loro hanno un vincolo di lealtà con Draghi e quindi certe cose non le possono fare perché la lealtà di maggioranza questo prevede. Ma io sì. Lei libera. Io sì e posso aiutare a rafforzare. Ma lei si scambia messaggi con Draghi? È vero che si scambia sms? Draghi, sì, beh, all'occorrenza anche, ho un buon rapporto con Draghi, però faccio mezzo passo indietro, mi scusi, quando si è ridiscusso il coprifuoco, il coprifuoco si è ridiscuso perché noi abbiamo portato come Fratelli d'Italia dall'opposizione in Parlamento un atto parlamentare che costringeva a dibattere sul tema del coprifuoco e la Lega e Forza Italia a quel punto hanno usato un atto presentato da noi per andare da Draghi a dire che bisogna discutere il tema del coprifuoco, altrimenti non si sarebbe discusso. Io credo che il ruolo di Fratelli d'Italia possa essere utilissimo anche per il centrodestra e così lo sto interpretando. Con Draghi ho sicuramente un rapporto molto cordiale, ci siamo visti la settimana scorsa, abbiamo parlato più di un'ora. È vero che le ha detto che sto qui fino al 23 perché c'è tanto tempo, poi è uscito sul giornale. No, io in realtà non gliel'ho chiesto e lui non mi ha detto che sarà lì fino al 23 e io spero di no, francamente se la dovessimo dire tutta come si sa spero di andare a votare. Io ho portato, credo che Draghi sia una persona, mi pare sia una persona che sa ascoltare, a differenza del suo predecessore. Credo che le proposte di Fratelli d'Italia siano proposte molto serie. Sono andate lì a porre fondamentalmente tre grandi questioni. Basta alla limitazione, senza ragione, della libertà delle persone e della libertà d'impresa. Perché dopo più di un anno dall'inizio della pandemia non è più tollerato. Quindi dice lei apriamo anche le discoteche sotto sotto? No, io dico che bisogna fare delle cose sensate. Va bene. Dico che bisogna lavorare su priorità vere come il potenziamento dei mezzi pubblici e che non bisogna fare cose che secondo me non hanno alcun senso come il tema del coprifuoco. In uno Stato democratico... Anche sui ristoranti il più 4, più 5, più 6, quei numeri... Lei capisce che non ha alcun senso? No, non lo dica a me. Ci sono delle misure che il governo continua a portare avanti che secondo me non hanno assolutamente alcun senso. Se si dice che all'esterno il contagio non c'è, perché noi siamo obbligati a portare la mascherina all'esterno? Perché in un ristorante se in 4 possono stare distanziati non ci possono stare in 6? E se il distanziamento funziona? Perché non abbiamo fatto niente sui mezzi pubblici dove la gente sta stimata a 100 anni? Secondo lei la recepiscono un po' a questo? Mi pare di sì, perché poi di fronte a cose che sono davvero irragionevoli, una persona intelligente... Draghi ascolta di più. Comunque, abbiamo posto questo tempo. Diciamo che Speranza ha perso un po' di potere forse? Ma guardi, io spero, perché lo strapotere di Speranza e delle sue decisioni folli, francamente incomprensibili, secondo me ha... Capiamoci, oggi i dati sui... Negli ultimi giorni i dati sui contagi... No, no, ma oggi, noi stiamo parlando di oggi. No, no, sì, i dati sui contagi... Attenzione, non di quello che è successo mesi fa. No, nel senso sto dicendo... In questi ultimi giorni i dati sui contagi e sulle morti in Italia sono più alti di quelli di un anno fa. E ci sono anche i vaccini. Che vuol dire? Secondo me vuol dire che queste misure non sono efficaci. E io tento di spiegare da tempo che secondo me le priorità erano altre piuttosto che accanirsi sui ristoratori, accanirsi sui matrimoni, accanirsi sulle palestre, accanirsi sulle piscine. Ma scusi, ma la riapertura delle piscine ha chiuso il primo di luglio. Ma lei capisce che... Il non senso dei non sensi. Non lo dica a me. Perché non si può fare la doccia in palestra? Mi sono scontrato un sacco di volte. Andiamo però a una cosa invece che mi interessa e la riporto. No, però posso dirle solo due cose velocissime? Perché a questo ci tengo. Non alla limitazione di libertà personale. La priorità sull'economia è tenere le aziende aperte. Noi continuiamo a parlare del blocco dei licenziamenti. Ma il blocco dei licenziamenti, se chiude il 40% delle aziende, come si teme, non serve a niente. Quindi devi premiare le aziende che mantengono i livelli occupazionali e rimangono aperte sul piano fiscale e burocratico. E terzo, i lavoratori vanno difesi tutti. Anche durante il Covid noi abbiamo avuto dei lavoratori che avevano delle tutele, i lavoratori dipendenti, e i lavoratori totalmente abbandonati, che era tutto il comparto degli autonomi, di tutti i lavoratori attivici. Basta. Basta con questa discriminazione. Di questo ho parlato con Draghi. Ecco, visto che anche Draghi pare non ne abbia detto questa storia che rimane fino al 23 a lavorare, potrebbe essere l'ipotesi che Salvini proprio qui aveva detto Berlusconi lo vedrei bene al Quirinale. Lui disse proprio qui, credo a gennaio. Se Berlusconi facesse parte di questo accordo, facesse parte di questo accordo, il fatto che Berlusconi possa salire al Quirinale, lei lo voterebbe? Se figuri, mi metterei io contro la candidatura di Berlusconi al Quirinale. Il problema è capire che cosa vuole fare. Perché lei non ha mai trovato un buon feeling con Berlusconi. Questo non è vero. Nel libro ho letto un po' di... Io ho sempre avuto un rapporto molto schietto con Berlusconi. Molto schietto e un rapporto di enorme rispetto reciproco. Poi ho detto che secondo me Berlusconi non mi ha mai capito completamente. Ci sta, insomma, siamo due persone sicuramente molto diverse. Neanche oggi che è lì sul 20% è cambiato qualcosa nel rapporto. Cioè non le riconosce? Assolutamente sì. Questo? Ma guardi, in questo Berlusconi è straordinario. È una persona che non ha invidia. Che cosa le ha detto? No, mi telefona. Più di una volta, guardi, mi ha chiamato anche di recente e mi ha fatto magari complimenti per una presenza televisiva oppure mi ha fatto i complimenti per la crescita di Fratelli d'Italia. mi ha detto che stai facendo un lavoro straordinario. Sono contento che anche magari se altri partiti o Forza Italia perdono qualcosa, rimane nel centrodestra perché riesce ad attrarlo. Guardi, da questo punto di vista Berlusconi... Quindi lei lo voterebbe? Ma io assolutamente non ho problemi su questo. Il punto è capire che cosa vuole Draghi. Credo che bisogna partire da lì per parlare del tema della presidenza della Repubblica. Ma è chiaro che in mano la decisione è di Draghi. Posso far vedere... In centrodestra bisogna capire intanto se riesce ad andare compatto e poi quali sono i numeri. E dipende da lei se non va compatto? No. No. Ebbè. No, queste cose si fanno insieme. Dipende da tutti. Ma loro mi sembra che abbiano tornato una quadra. No, ma non su questo, dico in generale. Sul tema del Presidente della Repubblica, certo. Sul tema Berlusconi è facile, ma se gli elementi fossero altri è importante comunque che ci si muove insieme. Senta, i soldi del recovery arriveranno, eccetera. Però l'Italia ha chiesto di fare delle riforme. Una di cui si discute molto è la riforma della giustizia. Si riuscirà, non si riuscirà, non lo so. Io le voglio far leggere questa frase che è di Giovanni Falcone. è una frase importante che dice l'autonomia e l'indipendenza della magistratura se non sono coniugate in pratica all'efficienza del servizio sono semplicemente dei privilegi di casta che quindi non possono neanche essere compresi dallo Stato. Si arriverà alla riforma di questa giustizia per la credibilità delle toghe a livello molto basso? Si deve arrivare per forza perché la situazione della nostra magistratura è obiettivamente molto complessa. Io penso che in qualunque altra nazione democratica al mondo vicende come quella del caso Palamara o come quella della loggia Ungheria avrebbero scatenato un terremoto totale. Invece sembra che non succeda mai nulla. Tutti i protagonisti, solo Palamara ha pagato. Parliamoci chiaro. Palamara ha pagato, gli altri sono sempre lì. Invece qui non accade nulla. E questo le fa capire quale sia lo strapotere di una certa magistratura. E dico di una certa perché io credo che la stragrande maggioranza dei magistrati siano i primi a volere una riforma che per esempio liberi la magistratura dal cancro delle correnti, della spartizione o della nomina magari più perché appartieni a un certo gruppo piuttosto che per il lavoro che hai fatto. Ed è la ragione per la quale noi abbiamo su questo fatto diverse proposte che riguardano appunto il tema della riforma del CSM per come la sta configurando il Ministro Cartabia. La riforma del CSM secondo me non incide sulla composizione del CSM in maniera seria, sulla lotta alle correnti in maniera seria. È successo di tutto il CSM. Appunto, dico, bisogna intervenire in maniera drastica. Bisogna intervenire in maniera drastica. Io dico col sorteggio. Noi sappiamo che la Costituzione prevede l'elezione. Perfetto, si può trovare una sintesi tra le due cose. La troveranno, però mi scusi, lei è convinta che si troverà questa riforma? No, oggi la proposta... Perché noi abbiamo un governo che sta in piedi con posizioni lontanissime, no? No, oggi la proposta che sta facendo il Ministro Cartabia secondo me non incide. E quindi no, non potrei dire che mi aspetto da questo governo che intervenga con la forza con la quale bisogna intervenire. Probabilmente ci sarà bisogno di aspettare un governo che da questo punto di vista abbia più coraggio. Le chiedo una cosa, tra poco, si è parlato molto di Brusca, della scarcerazione. Noi giovedì, su questa rete, giovedì sera, faremo uno speciale dal titolo Abbattiamoli. Cerca di capire le verità che ci sono dietro le stragi, tanti misteri che ancora oggi non hanno una risposta. Le voglio far vedere un frammento di quello che manderemo in onda. Max, se mi raggiungi qua sopra, vi facciamo vedere che cosa si vede oltre al muro di cinta, oltre al cancello. Ecco, questo è quello che è rimasto. Un vecchio vile tipico delle costruzioni siciliane dei primi anni del Novecento, completamente abbandonato. Ormai la natura si è impossessata di tutto quello che lo circonda. Ed è incredibile pensare che proprio qui dentro Gaspare Spatuzza preparò i salsicciotti che contenevano il tritolo che venne poi trasportato a nord che doveva finire per devastare Milano. Era il 27 luglio del 1993. Si parla molto delle... Noi lo vedremo giovedì sera, questo è solo un piccolo frammento. Si parla molto di Brusca, tante polemiche, però Brusca ha collaborato, piaccio o no, era una legge proprio voluta da Falcone. Io mi preoccuperei molto di più delle persone che non hanno parlato, hanno mantenuto i loro segreti, che adesso lo Stato italiano, con una sentenza della Corte Costituzionale, porterà l'abrogazione del famoso orgastolo, cioè la questione dell'orgastolo ostativo. non è più preoccupante questo. Brusca almeno ha parlato, ha collaborato. Allora, guardi, sulla vicenda di Brusca credo che però sì, ha collaborato, anche se più volte i magistrati hanno espresso molti dubbi sulla completezza delle informazioni che Brusca aveva fornito. per cui diciamo... Però l'orgastolo ostativo porterà fuori persone che non hanno collaborato. Ci arrivo, ci arrivo, perché è una fortissima battaglia di Fratelli d'Italia, ci arrivo. Per cui, insomma, diciamo che intanto anche questa si poteva interpretare in maniera diversa secondo me, perché comunque lo scanna Cristiani che ti torna e lo Stato gli dà pure la paghetta è una cosa che obiettivamente è un insulto a tutte le vittime della mafia, a partire da Giovanni Falcone e da Paolo Borsellino. Dopodiché la ringrazio, perché questa è una battaglia che Fratelli d'Italia sta facendo. Che cosa accade? È vero che c'è una sentenza della Corte, ma l'Avvocatura dello Stato fino a ieri aveva difeso la legittimità costituzionale del ergastolo ostativo e del carcere duro per chi non collaborava. E invece, con l'arrivo del nuovo governo, l'Avvocatura dello Stato ha cambiato posizione e si è rimessa alla Corte. Il che vuol dire, diciamo, che quando il Ministro Cartabia ci dice che certezza della pena non è certezza del carcere, ci voglia in qualche maniera spingere verso quella direzione. Io penso che in Italia ci sia soprattutto la certezza che in carcere non ci vai attualmente e quindi non abbiamo bisogno di picconare il nostro ordinamento ancora. E noi abbiamo tra le altre cose presentato, oltre a essere pronti a fare una battaglia senza quartiere sul tema dell'ergastolo ostativo, perché se l'ergastolo non se lo fanno neanche gli scanna cristiani che neanche collaborano con lo Stato non so veramente chi se lo dovrebbe fare. abbiamo presentato una proposta costituzionale di modifica dell'articolo 27 per dire che è vero che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, ma che deve anche garantire la sicurezza dei consociati. Ok? Quindi sì, ma c'è un limite a tutto, così magari con questa modifica costituzionale se ce la sostengono gli altri partiti e insomma magari si riesce ad affrontare anche questo problema perché poi dice sei garantista, sei giustizialista? guardi io sono garantista nella fase del processo e giustizialista nella fase di esecuzione della pena. Quando sei condannato la pena te la devi fare perché questa è una nazione nella quale di fatto non c'è più né certezza del diritto né certezza della pena e credo che una nazione del genere non riesca a garantire la sicurezza dei suoi cittadini. Grazie al presidente di Fratelli di Tania Giorgia Meloni dopo la pubblicità parleremo e avremo un confronto credo anche molto intenso con Formigoni l'ex presidente che ha avuto una condanna per corruzione però questo paese così curioso ha diritto oggi ad avere ancora il suo vitalizio ne parleremo dopo la pubblicità grazie grazie a voi grazie a voi